Giovedì 26 settembre, questo è liscio e macchiato e per la prima volta buongiorno a Daniele Caverzasio. Buongiorno, buongiorno a voi. Di preventivi lui ne ha visti tantissimi come deputato, come membro della Commissione della Gestione, come Presidente del Gran Consiglio, quindi oggi è proprio l'ospite ideale perché ieri il Governo ha presentato il preventivo 2025, questi titoli di apertura dei giornali, il Corriere del Ticino, risparmio, reazione ancora fredda, mentre la Regione, preventivo e tagli, il coltello non affonda. Marco, andiamo agli editoriali. Allora, il Consiglio di Stato intanto prevede una disavanza di 64 milioni, questo va detto, e un ammontare di misura di rientro per 72 milioni. Righinetti, Gianni Righinetti, sul Corriere del Ticino, va riconosciuto che il Consiglio di Stato i suoi compiti li ha fatti, sarà magari anche solo un compitino, ma è quanto le logiche attuali permettono di fare in questo Ticino dove si vive e si campa nell'autolesionismo generato dall'immobilismo. L'esecutivo le cifre non le inventa all'insegnare di convenienza, ma le elabora secondo i criteri della sostenibilità e della necessità. Ma ora, le dinamiche, scrive Righinetti, che hanno contraddistinto il dibattito politico dello scorso anno, con un fronte massiccio delle forze in Parlamento, comprese quelle con responsabilità di governo, nel sostenere il motto Piove, governo ladro, si ripeterà. Anzi, si sta già ripetendo, perché no alla tassa di collegamento. È quello che sta maturando nei confronti del meccanismo della progressione a freddo, nella sostanza, dice, misure che mettono le mani nelle tasche dei cittadini, è un segnale inequivocabile. Così, di punto in bianco, il governo si è trovato il preventivo deprivato di entrate previste per 20 barra 25 milioni. Ora ci manca solo, ma stiamone certi che il momento arriverà presto, un nuovo colpo di spugna sulle misure di risparmio. Allora, cosa bisogna fare? Perché siccome il Gran Consiglio, dici, non risponde la ragione, ma ha un irrefrenabile estinto del bel figurale cospetto della democrazia piazzaiola, il governo dovrebbe nominare degli esperti per mettere un po' in luce quali sono i problemi finanziari, come ha fatto Berna, dove le uscite crescono come fossero piante infestanti, senza tregua. Quindi conclude, forza Ticino, fuori politici e dentro i tennici per darci una visione realistica della nostra elefantiaca macchina. Stato. Daniele. Anzi, Daniele, prima Andrea. E allora vi leggo anche Daniel Ritzer, già che ci siamo, il direttore della regione, un film tragicomico già visto troppe volte. Il direttore della regione costruisce il suo editoriale come un film in tre scene. Vi leggo la scena 3. Tra i membri della commissione della gestione ritrovatisi per un aperitivo di debriefing, nessuno è contento, ma nemmeno troppo scandalizzato. C'è chi, un po' più ferrato con i numeri, rassicura i colleghi. Sono rimasti sotto di 50 milioni rispetto alla soglia massima consentita dal freno al disavanzo, perché sanno come andrà a finire in Gran Consiglio. 15 milioni di tassi di collegamento già pronti per essere cancellati, 8 milioni di pseudos gravi fiscali attraverso il mantenimento della progressione a freddo così com'è, qualche ritocco obbligato alle cifre dei sussidi di cassa malati vista l'imminente ed ennesima stangata sui premi, ed ecco che il pronostico di un deficit a preventivo vicino al centinaio di milioni è subito fatto. A preventivo, perché poi a consuntivo, è sempre un'altra storia, virgolette, chi lo sa, se ci va di culo magari finiamo pure per rispettare il decreto del Sergio, The Hand. Prego Daniele. Ma allora, beh da dove partire? Potrei cominciare a dire che già abbiamo letto due editoriali, due diametralmente quasi opposti, tra virgolette, e vi rendete conto che due persone hanno due idee diverse. Voi immaginatevi, 5 in Consiglio di Stato e 90 in Gran Consiglio, con oltretutto un numero di partiti, e lo sappiamo tutti, che è cresciuto e di conseguenza trovare quelle giuste collaborazioni che ci portino ad avere una visione più o meno comune, perché poi avere la visione tutta comune è molto complicata, è indubbiamente esercizio difficile e complicato. Quindi da questo preventivo non mi aspetto nulla di che, non mi aspettavo evidentemente nulla di che prima, quando è arrivato, quando l'hanno presentato ieri, e non mi aspetto nulla di buono poi dall'aula, perché meno male sapremo che ci saranno gli schieramenti su su vari temi. E questo ci sta, fa parte poi della politica. Sul discorso dei, dei, degli esperti, sì, va bene, c'è chi ha fatto esercizi, danno in mano ad altri le responsabilità, poi io ritengo sempre che poi le scelte siano politiche, perché quando si vuole fare alcuni tagli vuol dire rinunciare a qualche servizio, cioè questo è molto semplice, o riallocare le risorse, perché oggi servono da altre parti. E lì le scelte, magari il tecnico può dirci, lì si potrebbe, però poi c'è sempre lo scelto, il discorso che va portato in Parlamento, spesso e volentieri, e il Parlamento poi deve decidere. Posso portare nel piccolo alcuni esempi anche capitati a Mendrisio, potrei citare, dove sono arrivati, ma forse quattro o cinque anni fa, degli ammendamenti per una trentina di tagli, sapete quanti ne sono passati? Zero. Perché la realtà è che poi c'è sempre, no, ma quello serve, no, ma quell'altro, e quindi quando si arriva in un Parlamento così frastagliato è difficile trovare una concordanza per portare avanti un progetto a lungo termine, forse questo si vede meno in questo preventivo, una visione un po' a lungo termine, sulla strada che si vuole percorrere per riportare le finanze in modo sano in questo cantore. Anche perché le difficoltà che hanno la gente, le persone, lo vedremo poi con le casse malati, ma lo vediamo anche negli studi sulla povertà, sono crescenti e di conseguenza se a un certo punto non riusciremo a riallocare le risorse, finirà per non averne nemmeno più, per dare una mano a chi è veramente bisogno. Ricordiamo tra l'altro che con il preventivo 2024 il Gran Consiglio ha dato via libera, almeno un grande cantiere sulla revisione della spesa con una commissione ad hoc composta da governo, Gran Consiglio e che si appoggerà anche a enti esterni, così è stato deciso e vedremo se non è proprio una commissione solo di tecnici, però diciamo una commissione politica che si appoggia dai tecnici e vedremo se porterà a qualche risultato questo grande cantiere appena avviato. Daniele Caverzasio, Ministro delle Finanze di Mendrisio, sentiamo il Ministro delle Finanze Vitta che ha fatto l'appello ieri, no Marco? Ex Ministro delle Finanze Mendrisio. Ah non sei più Ministro delle Finanze. No perché abbiamo cambiato i vicosti. Già Ministro delle Finanze. Già Ministro delle Finanze. Però un paio di esperienze ce l'hai e Daniele sorrideva quando tu andrei a parlare di questo grande cantiere che forse grande non è, vedremo i risultati perché sappiamo come vanno queste cose. Allora Vitta, Vitta Presidente del Governo e Ministro delle Finanze ieri ha invitato il Parlamento alla responsabilità e alla collaborazione. Allora il Governo nel comunicato stampa ha fatto questa premessa che poi era la linea guida di tutta la presentazione del documento finanziario. Fondamentale sarà la volontà di tutti di superare le divergenze coscienti che le finanze pubbliche sane sono nell'interesse comune. Allora, che ha detto Vitta? La situazione rimane complessa, difficile e fragile. È un dato di fatto. Dobbiamo andare oltre le buone intenzioni e agire anno dopo anno per portare avanti questo esercizio di riequilibrio dei conti dello Stato. Non possiamo basare la solidità di un cantone sui risultati della Banca Nazionale. Però ha detto che se un'entrata arriva ripetutamente nei decenni non possiamo fare finta che non sia arrivata. Quindi questi soldi qua che mancano sono mancati e mancheranno probabilmente anche quest'anno, ma forse no, segnano le difficoltà finanziarie dei cinesi. Perché dice Vitta quando un'entrata è ripetuta ormai viene a mancare. Se dovessero arrivare i soldi e l'iter parlamentare confermasse questo deficit previsto, ambire il pareggio di bilancio non sarebbe impossibile. Comunque ogni singolo intervento è criticabile, ma la politica nel suo insieme è chiamata a trovare una sintesi, soprattutto in un sistema proporzionale come il nostro, basato su dialogo e compromesso. Allora che sembra un po' l'analisi di Righinetti, no? Sì, però scusa Marco, il deficit di 64 milioni è un deficit parocco, perché ci sono già due misure, cioè la tasse di collegamento. Sono già 90 milioni, eh? Cioè nel senso. E' quello che dice Righinetti. 25 minuti sembrano già saltati, però insomma Vitta dice, insomma adesso tocca al Parlamento, però il Parlamento scrive Gianni Righinetti a piazzaiolo, fa lo strezzo all'occhio di una piazza, quindi alla fine non si arriverà probabilmente a rispettare quanto previsto dal governo. Daniele, su Vitta, ecco, magari troppo ministeriale. Magari ho poca memoria storica, però non ricordo particolari tagli proposti dal Parlamento. Ecco, tendenzialmente è più facile eliminare qualche taglio proposto, l'esempio l'abbiamo visto anche nell'ultimo, nell'ultimo Gran Consiglio, ma anche perché è difficile per lo stesso parlamentare. Alla fine, ricordiamolo, è comunque un parlamentare di milizia, prendere mano a tutto l'apparato dello Stato e pretendere che sia il Parlamento a farlo. Ecco, sinceramente anche no. Obiettivamente le proposte che devono arrivare, devono arrivare comunque dal Consiglio di Stato, da chi... Ma poi vengono fucilate, già prima del dibattito. L'ho detto anche prima, no? È comunque molto complicato trovare oggi degli appoggi politici su un Parlamento così frazionato. Cioè una volta comunque, diciamo, due partiti riuscivano grosso modo ad avere quelle maggioranze per portare avanti quei discorsi ostici, che magari erano anche meno ostici rispetto adesso, perché la situazione dei conti è via più allarmante. Oggi, per farlo, tre, a volte anche quattro schieramenti. E ci rendiamo conto che, visti anche i chiari di luna che girano in Parlamento, ecco, è un esercizio estremamente difficile e complicato. Capisco Christian Vitta quando c'è un richiamo alla responsabilità, perché null'altro può fare. Cioè in fondo anche lui, tra virgolette, può dire, almeno a livello di Parlamento, nel senso che lui porterà le sue misure, che comunque è un lavoro non solo di Christian, ma è un lavoro di tutto il Consiglio di Stato, ecco, porta alcune misure e poi è consapevole delle difficoltà di portarle avanti in Parlamento. Questo è un dato di fatto. Ma proprio, secondo me, perché anche l'approccio magari si potrebbe discutere, no? Che strada vogliamo percorrere? Quale cantone vogliamo dare? Quali sono le priorità chiare? Dove ci sono le sacche che tanto si dice? Ecco, ma sono mai stati affrontati questi problemi? Forse la mancanza anche del Parlamento di avere una visione chiara impedisce poi di capire questi tagli che a volte appaiano lineari. E quando si fa dei tagli lineari è quando non si sa decidere. Però Daniele, parliamoci chiaro, questo qui è un preventivo fotocopia dell'anno scorso, più o meno. Forse anche il governo poteva fare qualcosa di più, voglio dire. Al di là dei grandi appelli alle responsabilità che va bene, però... Sono d'accordo con quello che ho detto, cioè il compito non può pretendere che lo faccia al Parlamento, ma perché è impossibile. Quindi il compitino vero deve farlo il Consiglio di Stato e oggi vediamo che propone alcune misure e alcune addirittura che sono già state rispedite al mittente l'anno precedente e quella, ad esempio, sul sussidi di casse malati. Il rincaro anche. Oggi vedremo, vedremo, vedremo quanto sarà il rincaro. Ecco, è chiaro che è una misura che farà sicuramente discutere e che già parte con presupposti piuttosto ballerini, ecco, diciamo così. Allora, vediamo i partiti. Ieri sera ho fatto, ha detto tra noi, un primo confronto sul preventivo con due partiti di governo, Lega e PLR, due partiti di opposizione, Udc e MPS, anche se l'Udc è un'opposizione un po' ibrida, comunque sia, tutti e quattro hanno bocciato il preventivo del governo. Nessuno ha dato la sufficienza e questo secondo me dà un po' l'idea del clima che c'è a livello politico e del destino che aspetta questo preventivo. Però vi leggo proprio a tweet le reazioni dei partiti presi dal Corriere del Ticino. Speziali, non abbiamo scorto un approccio diverso, anzi, c'è ancora una visione contabile e non di prospettiva. Dado, richiamare i partiti di governo alla responsabilità per far accettare acriticamente quanto presentato è come dire mangia questa minestra o salta dalla finestra. Non si può chiedere al plenum di chiudere gli occhi, turrarsi il naso e accettare l'insieme delle misure. Questo svilisce l'attività del Parlamento. Bignasca, il deficit presentato non mi sembra catastrofico. Noi rimettiamo sul tavolo la spesa per gli asilanti, non più di quanto riceviamo dalla Confederazione e il taglio dei sussidi e i permessi di B. Il PS si dice molto preoccupato, soprattutto per il taglio dei sussidi di Cassamarati, una decisione che secondo Fabrizio Sirica appare incomprensibile, specialmente in un momento in cui i premi continuano a crescere. Samantha Burguen dei Verdi, ancora una volta si racconta una bugia perché non è possibile fare tagli senza andare a toccare le fasce più deboli e i settori chiave. Sergio Morisoli, infine capogruppo dell'Udc, il decreto Morisoli imporrebbe il parreggio di bilancio entro il 25. In questo momento quindi il Consiglio di Stato non sta rispettando la legge e non è un dettaglio da poco. Il governo ha buttato via tre anni e imparato molto poco da quanto avvenuto lo scorso anno, Daniele. Beh, è piaciuto molto questo preventivo, ma adesso potremmo andare a guardare... Che giudizio ne dai? Che voto gli dai a questo preventivo? Allora, potremmo andare a guardare quello che è stato detto l'anno scorso e sono esattamente le stesse cose, probabilmente ancora l'anno prima. Cioè, quello che ho detto prima, che manca visione, manca una chiarezza, mancano delle direzioni chiare, cosa si vuole tagliare, cosa si vuole fare in questo cantone, forse aiuterebbe un pochino di più. Qui mi sembra che è una riproposta, come abbiamo già visto, di qualcosa che è già stato proposto, non si è andato a cercare nulla di che, non scomodiamo nessuno, perché poi quando si fa tagli, comunque qualcuno si scomoda, nel senso che si va a tagliare dei servizi, si vanno a tagliare determinate posizioni, eccetera. È chiaro che è qualcosa di complicato da affrontare, ma prima o poi qualcuno deve prendersi da questa responsabilità, e non può essere il Parlamento, perché prima il compito, ripeto, deve farlo il Consiglio di Stato. Ma il tuo voto è sufficiente ad oggi? Ma no, è sufficiente ad oggi, ma mi allineo un po' quello che è stato detto prima, anche dai capigruppo che hai letto. In fondo c'è semplicemente un ricopiare un po' quello che è stato fatto, chiedere dell'aiuto, ma lo vediamo anche nel settore anziani dei prelievi, dei prelievi alle OCI, eccetera, eccetera. Ecco, ci sono delle misure, indubbiamente, che diciamo, ma è una visione? No, in realtà no, ecco, è un po' mettere due cerottini, ma non una visione... Contabilità, diciamo. Eh, ma quindi voto al governo? Esercizio non fatto, Nick Field. È sufficiente, l'ha detto. Io direi, se esce un preventivo così e abbiamo letto, abbiamo sentito cosa sono i pareri di tutti i partiti, è difficile dare una sufficienza. No, allora, più volte già citato nell'ambito di questo discorso sul preventivo, perché tocca direttamente il tema dei sussidi, notizia ieri di Ticino News, casse malati in Ticino verso un più 9.9%, cioè un altro bel 10% di aumento dei premi, dovrebbe essere annunciato oggi, cioè i premi saranno annunciati oggi alle 2 da Elisabeth Borm Schneider a Berna. Questa è la previsione fatta da Ticino News, la notizia, l'indiscrezione raccolta a Berna da Gianni Reghinetti, che commenta, tra l'altro, ha commentato di essere al telegiornale, i ticinesi non possono più sopportare aumenti simili, che è quello che Raffaele De Rosa ha detto anche a Elisabeth Borm Schneider quando l'ha incontrata, insomma, mal contati, fa un più 30% negli ultimi tre anni, Daniele. Fa male, fa male, sentiamo anche qui, potremmo dire sempre le stesse cose, no? laddove abbiamo parole, 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 però in realtà proposte eventuali di soluzioni non ce ne sono, è l'ennesimo 10% sull'aumento ancora dell'anno prima per intorno al 7-8% e così via, insomma, è una spesa che oggi fa estremamente male ai ticinesi, ma non solo a chi magari su questa spesa attinge i sussidi, perché in realtà c'è tutta una fascia di popolazione che per evitare, o meglio, per risparmiare aumenta le franchigie e poi magari sceglie di non andare nemmeno dal medico, proprio perché non può permettersi di pagare la visita medica, cioè siamo alla follia di un sistema che indubbiamente andrebbe in qualche modo rivisto, perché così non regge più, è impossibile. E che tra l'altro incide tantissimo anche sui sussidi, perché negli ultimi tre anni questi aumenti dei premi mal contati sono costati al canton Ticino, quindi ai suoi contribuenti circa un centinaio di milioni, anche qui mal contati, perché chiaramente i sussidi si adeguano alla crescita dei premi. Voi Daniele come Lega avete presentato un'iniziativa popolare per sgravare, diciamo, questi premi fiscalmente. È il momento di tirarla fuori? Ma può essere anche qui una mano, è chiaro che poi non aiuta tutti, aiuta, potrebbe aiutare un po' chi comunque, diciamo, è nella soglia di poter pagare le tasse, perché poi c'è anche la cosa che nemmeno ce la fa a pagare le tasse, non perché non vuole, ma perché non raggiunge nemmeno i minimi per riuscire ad arrivare ad avere una... Vabbè, comunque per una famiglia metter dentro 15.000 franchi di sgravi in più non sarebbe male, insomma, no? Certo, è sicuramente un frotto, ma non affronta il tema, non affronta il problema. Ok, però hai comunque un guadagno a profilo fiscale e magari poi non vai a chiedere i sussidi, no? Sì, sì, questo sono pienamente d'accordo. Ragazzi, parliamoci chiaro, minimo, 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 gli ultimi tre anni, ma minimo, sono stati 150 franchi al mese di aumento in più per le persone, cioè di questa enormità stiamo parlando, eh? Una famiglia, magari anche solo di tre o quattro persone, fate subito i conti. Vabbè, insomma, ne parliamo poi diffusamente domani commentando la conferenza stampa, ma per finire questa mattina, Marco, vogliamo toccare ancora il delicato tema che sta scatenando un putiferio regato alla capsula della morte, a Sarco. Esatto, perché la regione intervista un teologo, Marcus Zimmerman, che è Presidente della Commissione Nazionale d'Etica in materia di medicina umana. Allora, intanto, su Sarco, giudizio, per me è completamente assurdo, basti pensare alla prima esperienza di cui si è venuti a conoscenza, non quella dell'altro giorno. Una donna che si era preparata negli Stati Uniti e che avrebbe dovuto togliersi la vita in Vallese, con vista sul Cervino, una gigantesca, terribile messa in scena, dice Zimmerman, la soverenza di una persona viene mediatizzata e mostrata al mondo. È cinico, non a caso la prima persona in assoluto a suicidarsi con la capsula nel canton Schaffusa l'altro giorno è una donna americana. La Svizzera viene utilizzata da Last Resource come piattaforma e ridicolizzata, dato che il suicidio è venuto subito dopo il primo intervento ufficiale da parte della consigliera federale von Steiner che ha detto no. E poi ci sono stati gli arresti, l'inchiesta dell'amministratura, eccetera. Ma, dice il teologo, serve una legge minimalista in Svizzera che funga da base per regolamentare un settore che è in crescita esponenziale, perché in Svizzera i casi suicidio assistito continuano ad aumentare e oggi ne abbiamo circa 1500 all'anno, soltanto persone residenti nella Confederazione, senza contare quelli che arrivano dall'estero. Il suicidio assistito in Svizzera sta diventando una pratica quotidiana, anche più che quotidiana, perché è 1500 all'anno, insomma. Facciamo i conti. Daniele. È chiaro che è un tema molto etico, quindi è forse difficile arrivare a una conclusione che poi vada bene per tutti e probabilmente non ci sarà. Indubbiamente è uno di quei temi che in qualche modo andrebbe legiferato. Poi è vero che però si entra anche nella scelta personale di una persona che perché scelga quella strada è libero e difficile da interpretare o come mai. Sul fatto che sia un fatto cinico di che modo scegliere, è forse anche cinico il racconto che viene dato, questo fatto quasi di far marketing su questa possibilità. Trovo quello molto cinico. Il fatto cinico, la scelta, secondo me non userei quella parola perché comunque chi decide di fare una scelta del genere è difficile da interpretare, è comprensibile, pensi, in determinate situazioni e quindi diventa veramente molto etico e complicato. No, vedi, c'è la cinica, la messa in scena che sta attorno a questa sala. Molto cinica, secondo me, la messa in scena, cioè tutta questa cosa che sembra quasi un effetto marketing, no? Questo deve vendere sta roba, insomma, deve farla girare, se no non guadagna, no? Quello è cinico. La usa più lui. Sinceramente è difficile entrare nel merito, a parte che non ho le conoscenze mediche, ma c'è chi sceglie anche sistemi forse ben peggiori, quindi in realtà è un tema che non bisogna nemmeno nascondere e lasciare sotto il tappeto sperando che poi si risolva da solo, ma va sicuramente affrontato. Difficile perché, ripeto, è un tema molto anche etico e di coscienza personale, in fondo. È stato un piacere conversare questa mattina con Daniele Caverzazio, a cui gli auguriamo buona giornata. Anche a voi. Buona giornata a tutti, Marco, e diamo appuntamento a domani mattina. A domani.